Prima coppia a Grande Fratello 16.Come tutti ben sanno, lunedì sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 16 Sia la conduttrice Barbara D'Urso che il pubblico del Real Edition si sono accorti della particolare simpatia nata tra Mila Suarez e Gennaro, l'ex Toy Boy di Lori Del Santo I due concorrenti, infatti, si sono dati un abbraccio molto affettuoso. A distanza di ore nella casa di Cinecittà è accaduto qualcos'altro Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.Mila Suarez e Gennaro sono una coppia Nella giornata di martedì, Mila e Gennaro hanno trascorso diverse ore insieme, scherzando con gli altri inquilini di questa presunta complicità In serata, l'ex marito di Tina Cipollari, Chico Nalli ha detto che al Grande Fratello 16 è nata la prima coppia Brindiamo! Barbara è nata la prima coppia, Gennaro e Mila. Qui è nata una coppia Auguri! A te piace lui e a lui piaci te! Gennaro devi essere uomo e dire la verità Baccia la virgola.Affermato il noto parrucchiere romano.Grande Fratello 2019. Mila e Gennaro si scambiano delle confessioni Nel giardino della casa di Cinecittà, gli inquilini Mila e Gennaro si sono aperti l'una con l'altro, trovando tantissime cose in comune L'ex di Lori del Santo ha raccontato di essere stato abbandonato dal padre quando aveva solo tre anni Non ho mai avuto una figura maschile di riferimento e allora mi dicevo non ho un padre, il mio padre sono io Questo dolore era anche la mia carica.Anche l'ex di Morgan si è ritrovata nel suo discorso Anche io so quanto valgo, so cosa mi sono costruita da sola Anche io so quanto valgo, so cosa mi sono stati Grazie a tutti.